Tocco corto per Cagliejon, sale lo Spagnolo che cerca la palla dentro per Mertens, è buona in rete di rigore, Mertens! Torna a segnare nel momento più importante, nel momento decisivo, Gris, Mertens, Atalanta 0, Napoli 1! Non aveva segnato nelle ultime otto, preparava un gol importante, pesante, come quello che porta avanti gli azzurri. Terzo gol stagionale contro l'Atalanta, il secondo in campionato dopo quello all'andata, anche al ritorno, il lancio dentro per lui, il destro dall'interno dell'aria. E battuto Berescia, è avanti il Napoli con la fiammata di uno dei suoi giocatori migliori. Grazie a tutti!